Buona giornata amici di Fano TV, oggi è venerdì 4 novembre 2022 e bentrovati alla rassegna stampa con la quale iniziamo le trasmissioni della giornata, vediamo insieme le notizie del giorno con il Corriere Adriatico, il resto del Carlino per quanto riguarda le pagine locali e intanto iniziamo come sempre con l'Almanacco a partire dal Santo del Giorno, oggi festeggiamo un santo molto noto o un santo storico di carattere storico e di carattere anche romanzesco, infatti San Carlo Borromeo fu un protagonista di un romanzo famoso, lascio a voi il compito di individuarlo, ebbene San Carlo Borromeo fu un figlio di una famiglia molto nobile, era il figlio del conte Gilberto Borromeo di Margherita dei Medici, insomma i cognomi rendono fede alla nobiltà di queste famiglie, ma non si abbandonò ad una vita di lussi e di inezie, ebbene si fece sacerdote, divenne arcivescovo di Milano, fu fatto cardinale, suo zio era un papa, papa Pio IV, e sua è la grande statua eretta nei pressi del Lago Maggiore a Darona, una statua gigantesca di bronzo, a testimoniare la devozione che ispirò nei suoi fedeli e in tutti coloro che ebbero il modo di conoscere la sua bontà d'animo, la sua devozione. Dicevo che si distinse per l'aiuto che diede ai cittadini colti nella peste, in modo particolare nel 1572, quando tutti i nobili fuggivano dalle città, lui invece ci andava e prestava soccorso a chi purtroppo non aveva assistenza. Sul piano personale vendette quanto aveva di superfluo per dare il ricavato ai poveri. Ebbene è un santo molto molto riprodotto anche nei quadri della sua epoca, fu un grande applicatore delle norme del concilio di Trento che ebbero una riforma, che diedero una grande riforma poi alle pratiche della Chiesa. Mettiamo da parte il santo e diamo un'occhiata invece al tempo. Oggi il tempo è cambiato rispetto ai giorni scorsi, piove, è arrivata la pioggia. Giornata instabile per il passaggio di una perturbazione. Dobbiamo dire finalmente piove, lo dobbiamo dire per tutti quegli agricoltori che attendevano impazientemente la pioggia. Piogge, rovesci e locali temporati su tutti i settori entrosera. I venti ispireranno da una direzione media di sud e sud-est, mentre da parte dell'interno da ovest e sud-ovest. Le temperature sono in calo, vediamo che la minima non andrà oltre ai 12 gradi, mentre le massime si attesteranno sui 19 gradi. Nei giorni scorsi erano ancora sui 22 e sui 23. E ciò detto, apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Vediamo qui l'apertura. È dedicata alla cantieristica. Al porto il cantiere è già in attività. Quale cantiere? Quello del nuovo capannone della Wider. C'è una superficie di terra di circa 30 ettari, 30 mila metri quadri, che da tanto tempo era così lasciata in usata, non veniva usata, era un po' abbandonata. Perché c'è stato un lungo travaglio da chi l'aveva in concessione per realizzare il cantiere dedito alla cantieristica. Alla fine è arrivata la Wider che ha bruciato i tempi ed ora si appresta a costruire questo grande capannone che dovrebbe ospitare la costruzione di barche di notevole tonnellaggio. La prima campata dovrà essere pronta per gennaio. Lo ha detto ieri, l'ha detto alla gestione della società Fabio Fraternali. Poi si imposterà un catamarano che sarà la prima imbarcazione. Ora si cominciano a vedere le fondamenta, dato che i lavori sono già iniziati. Nei giorni scorsi si è svolta anche la conferenza di servizi che ha dato il via libera al progetto con qualche considerazione, con qualche applicazione. Per l'amministratore delegato si dovrebbe ottenere l'agibilità almeno su una campata nel mese di gennaio. Quindi sono lavori che procedono in fretta. Ed ora cambiamo argomento e vediamo invece un articolo che riguarda l'uso dell'acqua potabile. Acqua potabile che è stata vietata tramite un'ordinanza del sindaco nella zona di Falcineto, Basso e Dittorno. È stato individuato un solvente nei pozzi. E quindi è stato dichiarato lo stato di emergenza per decine di famiglie che usano quell'acqua potabile nei dintorni, nella zona. Sarebbe stata trovata una sostanza inquinante. Si tratta del tetracloroetilene, un solvente chimico affine alla trielina. E quindi fin quanto non si faranno nuove analisi e si accerterà che questa sostanza non c'è più nell'acqua potabile, queste famiglie dovranno essere rifornite tramite le autobotti. Chi ha bisogno di questo servizio può fare richiesta al numero verde di ASET 800 000 989. È un numero verde, quindi si può trovare in qualsiasi momento e fare richiesta di questo servizio che è essenziale. L'ordinanza resterà in vigore fino a una nuova comunicazione da parte del sindaco Massimo Seri. E poi vediamo un articolo di Cronaca. Ci sono due episodi oggi sui giornali, adesso vi faccio vedere il primo, di violenze nei confronti della moglie in famiglia. Vestazioni sulla moglie condannato per lesioni. In questo caso si tratta di un tunisino, un tunisino che si è fatto autore di insulti, minacce di lasciare la moglie addirittura senza soldi per pagare la retta della bambina all'asilo. Proprio un ricatto molto molto brutto. Un caso emerso nel giugno del 2021, quando la donna addirittura era stata ricoverata al pronto soccorso per le botte che aveva ricevuto. E non era la prima volta. Lei, quarantenne, anche lei tunisina, aveva raccontato tutto in un incidente probatorio, riferendo a che i maltrattamenti sarebbero andati avanti addirittura per mesi e quindi l'uomo ora deve rispondere appunto per lesioni nei confronti della moglie e davanti al giudice. Giriamo la pagina e vediamo un altro caso di violenza nei confronti della moglie. Questa volta l'ha compiuto un marottese di 43 anni. Minacciava di ucciderla e addirittura di bere il suo sangue. Pensate a che punto è raggiunta la violenza di quest'uomo. Le diceva che l'avrebbe ammazzata e avrebbe bevuto il suo sangue. Ieri il patteggiamento per un 43enne di Marotta accusato di atti persecutori e danneggiamento nei confronti della moglie. Questa è tutta un'escalation di episodi con una violenza amplificata dall'abuso di alcol alternati poi a momenti di calma e di lucidità. Quindi era un atteggiamento molto altalenante nei confronti di questo uomo. Dopo l'ultimo episodio di giugno fatto di minacce, offese e danneggiamenti ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori e danneggiamento nei confronti dell'ex compagna di 39 anni. E non sono pochi questi episodi che continuano a ripetersi anche nel nostro territorio. Sì, spesso è vero, sono episodi che si verificano all'interno di famiglie di immigrati, ma è una cultura che purtroppo si sta facendo sempre più spazio, sempre più proseliti nei confronti del cittadinanza. Veniamo alle altre notizie, siamo a Fossombrone. La linea Enel verrà interrata, adesso riprendono i lavori. L'annuncio è del Comune per Viale Martiri della Resistenza dopo una stasi tecnica. La prossima settimana riprendono appunto nella città Metaurese i lavori lungo Viale Martiri della Resistenza. Dopo che l'Enel ha rimosso i pali in cemento per avviare l'interramento della linea e sono lavori importanti che non solo depongono per la sicurezza, ma anche per una tutela maggiore del paesaggio. E qua abbiamo una figura che è molto nota per coloro che amano la sicurezza. Si tratta del maresciallo, anzi del luogotenente Antonino Barrasso, che ora è in pensione. Era il comandante della stazione dei carabinieri di Fano, che era appunto allocata nello stesso stabile della compagnia. Il luogotenente ora verrà premiato a Mondolfo. Ha guidato la stazione prima di Marotta e poi anche quella di Fano. In occasione delle celebrazioni della giornata delle unità nazionali delle Forze Armate, oggi vi ricordo che è il 4 novembre, l'amministrazione comunale di Mondolfo conferirà in segno di profonda gratitudine un riconoscimento al luogotenente dei carabinieri Antonino Barrasso, andato in pensione proprio qualche mese fa. La cerimonia pubblica si svolgerà domenica a partire dalle 11 e 15, orario in cui le autorità civili e militari si ritroveranno nella chiesa di Sant'Agostino per la tradizionale messa di suffragio. A termine della funzione il corteo raggiungerà poi il monumento ai caduti per la cerimonia istituzionale nel Parco delle Rimembranze e poi ci sarà appunto la consegna di questo riconoscimento a Barrasso che ha prestato servizio per oltre 20 anni come comandante dell'arma a Marotta e poi quindi a Fano. Un personaggio veramente che ha fatto molto per la sicurezza del nostro territorio. E invece per quanto riguarda la sicurezza non riferita all'ordine pubblico ma riferita ai disordini ambientali, a Cantiano si è ancora sul punto di così cercare di tornare alla normalità. E c'è stata una visita importante, quella del Presidente nazionale dell'UNCEM che ha visitato sia Cantiano che Sassoferrato e Arcevia. Ha soprattutto visitato i territori devastati, pressando il Governo perché intervenga con urgenza a sollevare le famiglie che hanno subito molti molti danni. Si tratta di Marco Bussoni, Presidente dell'UNCEM che è il sindacato della Montagna. Ieri era nelle alte terre dell'Anconetano e del Pesarese in visita nei comuni montani. Non era una visita di cortesia ma era una visita proprio per vedere con i propri occhi, prendere atto di quanto accaduto e ascoltare le popolazioni danneggiate. Ancora un articolo che riguarda invece la sanità, questa volta a Mondolfo. Certo non è un articolo piacevole a leggersi. La Guardia Medica che era stata istituita dopo appena due mesi viene sospesa. Un servizio essenziale per tutta la popolazione. La riapertura era stata garantita dai neulolaureati, i medici freschi di nomina di esercizio della loro professione. Era stata riaperta a settembre la Guardia Medica dopo lo stop prolungato che durava dal mese di marzo. E ora Mondolfo si deve privare ancora una volta di questo servizio. I residenti del Centro Storico ieri mattina sono stati informati tramite una comunicazione dell'Azur che per tutto il mese di novembre la Guardia Medica non ci sarà. E beh, insomma, non è una bella notizia veramente. A Senigallia slitta la consegna di 68 case popolari. In 489 sono ancora in attesa di un alloggio. Tempi più lunghi a Mazzocca, San Silvestro e Cesano, pubblicata la gradatoria per Senigallia. Che cosa è accaduto? È accaduto che gli appartamenti di Mazzocca, in Viale Maratea, sono 16, e ancora hanno dei problemi per quanto riguarda i lavori che sono stati compiuti. Alla ripresa dei lavori era stata ipotizzata una scadenza a primavera, ma lo scorso mese di luglio l'Erap aveva annunciato la consegna a fine agosto e ora slitta ancora, nonostante l'emergenza abitativa che caratterizza un po' tutto il territorio Senigallia, Pesaro, Fano. Abbiamo delle case che sono anche a disposizione, ma non vengono consegnate per la questione poi di fare il collaudo, di verificare il tutto. Ci sono pratiche amministrative che acquistano, che richiedono ancora del tempo e quindi passa il tempo senza che la chiave dell'appartamento venga consegnata. Opposizioni non coinvolte sul risparmio energetico, la protesta di Bonprezzi a Senigallia, il Partito Democratico e Pagani vola a Senigallia, niente dialogo, come sempre. Insomma, opposizioni disattese, non sentite, non coinvolte e quindi si fa ancora più acre la protesta che viene elevata dai seggi delle minoranze. Diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi, dove vediamo che si restaura finalmente il ponte dei Cappuccini, il ponte de Sabata. In gara ci sono dieci ditte rispetto a molte di più che sono state interpellate. Si tratta di 183 ditte che erano all'inizio, tra le quali se ne sono state sorteggiate dieci. Dieci imprese sorteggiate. E poi ora dovrà appunto tra queste scegliersi l'impresa vincente. Si tratta di un intervento considerevole, del costo di 3 milioni di euro, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Economie e Finanze, grazie ad un bando che il Comune di Pesola ha vinto nel 2021. Si tratta della sostituzione del guardrail e della messa in sicurezza di tutto il cavalcaferrovia. Non solo la parte superiore, ma si interviene anche nel sottopasso. Il sottopasso dei Cappuccini, chiesta una proroga dei tempi, saranno rimodulati i progetti dei singoli interventi del piano sprint, del piano veloce. L'intervento di straordinaria manutenzione del cavalcaferrovia ha superato ieri la fase del sorteggio ed ora implica anche interventi per quanto riguarda il sottopasso. Vediamo qui le due immagini, la parte superiore e la parte inferiore di questa infrastruttura molto importante per la viabilità pesarese. Tre Vescovi. Tre Vescovi che si mettono insieme per organizzare un pellegrinaggio in Terra Santa. Di solito sono i musulmani che nell'arco di una vita non possono fare a meno di fare un pellegrinaggio alla Mecca. E i cattolici dovrebbero fare un pellegrinaggio, almeno una volta nella loro vita, in Terra Santa, a visitare i luoghi in cui visse Gesù. I tre Vescovi con i fedeli in Terra Santa, pellegrinaggio unico ed è la prima volta. È stato presentato il viaggio della metropolia di Pesaro, Fane e Urbino per il prossimo mese di agosto del 2023. Ci saranno i tre Vescovi che accompagneranno i fedeli. Comunque per le preadesioni si può già partire da oggi, in modo che gli organizzatori possono orientarsi meglio per organizzare il viaggio. Muovere centinaia di pellegrinaggi tutti insieme ha una gestione veramente complessa. E da oggi partono le preadesioni online non vincolanti, che serviranno a scandagliare il numero dei partecipanti e anche a fissare il costo di questo viaggio. Basterà andare sul sito della diocesi di appartenenza, quella di Pesaro, quella di Fano, quella di Urbino, e scansionare il QR code per compilare la scheda. C'è tempo fino al 30 di gennaio, dopodiché si andrà allo step successivo, al gradino successivo, con la chiusura delle adesioni entro il 10 maggio. È comunque un viaggio da fare, un viaggio che dà emozioni, che dà sensazioni, e soprattutto che fa conoscere i luoghi della Bibbia, cose che magari si sentono solo su libri o sulle prediche dei sacerdoti, ma a vederle di persona fa un effetto molto molto diverso. Restiamo nel piano un po' dell'etica religiosa per vedere come si soccorrono i poveri, con in buoni pasto anche i percorsi di recupero. Si parla in questo articolo della Mensa dei poveri di Pesaro, che è stata oggetto di una nuova convenzione tra Comune e Caritas diocesana. La nuova convenzione prevede che il Comune assegna la Caritas per le attività della Mensa dei poveri per il 2022-2023 un contributo di 52.500 euro, mentre le risorse totali previste sono 70.000, compresi 17.500 euro, da mettere a bilancio per il 2024 quando scadrà il progetto. Occorrono ovviamente sostegni, occorrono adesioni, occorrono sponsor per sostenere le persone più fragili. Evasione fiscale, accuse a un industriale, sequestrati denaro e parte del villino. Ebbene, l'articolo pubblicato dal Corriere Adriatico parla di un noto imprenditore pesarese che è stato trovato, individuato dalla Guardia di Finanza. Si tratta di un 66enne cui sono stati prelevati soldi dal conto corrente ed è stata sequestrata una porzione del suo villino. Ebbene, non avrebbe versato tasse per 130.000 euro. Più nel dettaglio, le Fiamme Gialle hanno effettuato un preliminare accertamento di nitura fiscale per l'utilizzo di crediti d'imposta oltre il limite consentito per l'anno 2018. Secondo le carte, l'imprenditore avrebbe messo a credito 830.000 euro a fronte dei 700 che poteva vantare, non versando quindi 130.000 euro di imposte. L'imprenditore, la cui azienda è stata portata in fallimento nel 2020, è stato denunciato per i reati tributari rilevati. E vogliamo sapere chi è questo imprenditore? Ebbene, ce lo dice il resto del Carlino. Eccolo qua, una fotografia a tutta piena pagina, si può dire. Chi è? È Marco Montagna. Crediti IVA, sequestrati 130.000 euro a Montagna. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli preventivi a conto correnti, di quote di proprietà immobiliari all'ex presidente di Confindustria. È stato un errore della contabilità, ha dichiarato l'imprenditore. Verserò quei soldi quanto prima. Questa è la dichiarazione appunto di Marco Montagna. Si tratta di un errore della contabilità e quanto prima andremo a versare i 130.000 euro dovuti al fisco per sbloccare la situazione. Si figuri che ora quella soglia di 700.000 euro già dal 2020 era salita ad un milione, ma nel mio caso, parlando del 2018, rispondo della legge in vigore a quel tempo, dice appunto l'imprenditore. E continuiamo a dare un'occhiata alla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, anzi per vedere come a Fermignano c'è stato un incendio che è molto probabilmente di natura dolosa. Infatti sono andate a fuoco tre auto. Un'ombra criminale intitola il Corriere su Fermignano. L'azione in due punti distinti. Il sindaco preoccupato, mai successo niente di simile, chiedo sicurezza. Le circostanze degli incendi in rapida successione ne avvalorano l'origine dolosa. Il primo allarme è scoppiato alle 2.30 in via Kennedy, dove un Audi e una Fiat Cromo sono andati in fiamme, in cenere. Le fiamme hanno lambito anche una mini collacata accanto. E poi abbiamo un altro incendio che si è riverificato lì vicino, dove un'altra auto è andata a fuoco. Insomma, veramente un'azione di carattere criminosa. Vediamo anche la pagina di Urbino. Industria e benessere sociale, simbiosi e utile per lo sviluppo. Lezione dall'esperienza professionale in Confindustria di Giordano. Salvatore Giordano che ha presentato un suo libro, ieri a Urbino, intitolato Storie di una vita, racconti di imprese. Si tratta di un libro che parla della sua esperienza. Era direttore della Confindustria, dell'Associazione Industriale, Salvatore Giordano, quindi a contatto con la nostra economia, a contatto con molte imprese. Ed ora però prendiamo in esame anche il resto del Carlino. Sulla pagina di Fano si apre con una visita che i giornalisti hanno compiuto ieri nel Bioparco, nei pressi di Ronco Sambaccio. Si chiama Bioparco, si legge Pacos, Vita da Pacos. È un'esperienza che alcuni giovani stanno compiendo in una bella area agricola sulle colline di Ronco Sambaccio. Otto ettari di fattoria didattica per i bambini con molti animali, alpaca, caprette, pecore e cavali. Andarla a visitare è veramente una delizia, sia per i grandi che per i piccini, che non solo possono così assaporare, mettersi a contatto con un paesaggio veramente bello, ma possono immergersi anche in quello che è la natura, con le abitudini degli animali, accarezzarli, stare loro vicino. E c'è anche una bella sala giochi per fare divertire i bambini. Quindi una meta molto molto particolare per delle passeggiate domenicali, ma anche infrasettimanali. Lei lo lascia, lui si vendica, postando foto hot su Facebook. Ieri l'udienza con la ragazza fanese di 23 anni. Ha ripercorso la disperazione di sentirsi incapace di reagire. È una storia che nasce e muore sui social, ma che poi è finita in tribunale. Si tratta di un 25enne pugliese che ha perseguitato la sua ragazza con atti appunto persecutori. Si tratta di una fanese di 23 anni di professione cameriera che è stata vittima di questo stalking. In questo articolo di Spalla invece si parla della strada delle barche, una realizzazione che dopo tanto tempo si teme, si crede, non si teme, si crede più vicina. Un passo avanti è stato compiuto con l'approvazione del progetto per quanto riguarda questa realizzazione di un'opera che costerà 800 mila euro. Ma sono soldi che sono lì messi da parte da tanto, tanto tempo. Ancora sulla pagina di Fano. Turismo testa a testa tra Fano e Pesaro. Le presenze sono state quasi pari. Sono tornati gli americani e i tedeschi e il maggior flusso degli italiani dalla Lombardia e poi dall'Umbria. E qua abbiamo una denuncia. C'è una tassista donna a Fano che svolge la sua attività però non ha un bagno e anche questa è una necessità. Ci sono bagni per uomini ma non bagni per le donne e per una tassista insomma il problema può essere importante. Abbiamo poi l'articolo di Mondolfo dove l'Asur richiude la Guardia Medica e poi qui a San Costanzo invece la consigliera Nicoletta Carboni che denuncia come l'antico lavatoio sia in totale degrado. L'opposizione ne chiede il restato. E con questa notizia chiudiamo il Corriere il resto del Carlino e chiudiamo anche la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 nel Tg di Fano TV Occhio alla Notizia condotto da Simona Zonghetti. Questo è tutto per il momento vi auguro una buona giornata e a risentirci. Grazie. Grazie a tutti.